Quante volte hai visto alleanze cadere a pezzi o confederate che si sgretolano sotto il peso delle rivalità e degli intrighi? Scommetto che è successo più spesso di quanto avresti immaginato. Bene, oggi cercherò di svelarti tutti i segreti sulle alleanze e sulle confederate in Travian Legends, e forse scoprirai come queste dinamiche possono fare la differenza tra il successo e il fallimento, in questo mondo di strategia e diplomazia. Pronto per scoprire i trucchi del mestiere? Allora mettiti comodo e iniziamo. Prima di iniziare, vorrei chiarire che questo episodio si concentra sulla parte tecnica, e non sulla strategia, poiché ogni alleanza ha il suo modo di gestire le cose. Ma in futuro? Cercheremo di intervistare alcuni admin di alleanza per darvi esempi pratici su come gestirle. Iniziamo parlando delle alleanze. Le alleanze sono gruppi di giocatori che giocano insieme, ma possono contenere fino a 60 giocatori. Ci sono due tipi di alleanze, quelle pre-start, formate prima dell'inizio del server, e quelle di mappa, fondate direttamente in gioco tramite il reclutamento di giocatori nello stesso server e nella stessa zona. Per fondare un'alleanza, hai bisogno di un'ambasciata di livello 3. Per unirti a un'alleanza, invece, basta un'ambasciata di livello 1. Ricordate che l'ambasciata è solo un prerequisito per fondare un'alleanza, ma non è necessaria per mantenerla. Ma come si crea un'alleanza? Per formare una nuova alleanza, costruite un'ambasciata di livello 3 e, all'interno dell'edificio, selezionate la tab Fonda Alleanza. Inserite il tag e il nome dell'alleanza e cliccate su Salva. Così facendo, sarete gli orgogliosi fondatori di un'importante alleanza. Per invitare nuovi membri all'alleanza, ci sono due modi. Se hai il nickname del giocatore, puoi andare nella pagina Opzioni dell'alleanza e cliccare su Invita Giocatore. In alternativa, dal profilo del giocatore, cliccate sull'ultima icona subito sotto l'immagine dell'eroe. Per unirsi o lasciare un'alleanza è altrettanto semplice. Per entrare in un'alleanza, devi essere invitato direttamente da un membro dell'alleanza con i permessi corretti. Una volta invitati, basta accettare l'invito presso l'ambasciata. Per lasciare un'alleanza, vai nelle opzioni dell'alleanza e clicca su Lascia alleanza, punto. Ora, passiamo ai vantaggi di far parte di un'alleanza. Le alleanze offrono una serie di bonus che possono essere sbloccati attraverso le donazioni di risorse da parte dei membri. Ci sono quattro tipi di bonus, addestramento, filosofia, metallurgia e commercio. Ogni bonus ha cinque livelli sbloccabili con effetti crescenti. Ad esempio, il bonus addestramento accelera il reclutamento delle truppe, mentre il bonus filosofia aumenta la produzione di punti cultura. Sbloccare i bonus richiede diverse quantità di risorse e a tempi di aggiornamento specifici. Ricordate che c'è un limite al numero di risorse che un giocatore può donare ogni giorno. Inoltre, i bonus sono attivi per tutti i membri dell'alleanza una volta sbloccati. I nuovi giocatori hanno alcune eccezioni quando si tratta di utilizzare i bonus. Per gestire un'alleanza, gli amministratori possono apportare modifiche al nome, assegnare permessi ai membri, monitorare l'attività dei giocatori, modificare il profilo dell'alleanza e inviare messaggi circolari. Gli admin possono anche utilizzare specializzazioni per contrassegnare i giocatori come specializzati in attacco o difesa e inviare messaggi di massa a gruppi specifici. Per quanto riguarda le confederate, queste sono gruppi di massimo quattro alleanze che cooperano insieme, consentendo loro di inviare supporti tra i villaggi, commerciare direttamente, condividere guerre e combattere contro nemici comuni. La creazione di una confederata richiede il consenso di tutte le alleanze coinvolte. Infine, i patti di non-aggressione NAP sono utilizzati quando due alleanze non vogliono attaccarsi, ma non vogliono nemmeno aiutarsi. Questi patti sono limitati a tre per alleanza. Quando un giocatore decide di lasciare un'alleanza o viene espulso da essa, ci sono alcune importanti conseguenze da considerare. Innanzitutto, il giocatore non può più ricevere risorse o rinforzi dall'alleanza. Questo significa che, se aveva rinforzi in viaggio da altri membri dell'alleanza, questi verranno rispediti al mittente. Inoltre, i nuovi rinforzi e le risorse non saranno più disponibili una volta usciti dall'alleanza. Dopo l'uscita, inizia un timer di un'ora. Durante questo periodo, il giocatore è ancora soggetto a diverse restrizioni. Ad esempio, non può ricevere nuovi rinforzi o risorse dall'alleanza, e i rinforzi in viaggio verranno consegnati al loro destino. È importante notare che questo timer di un'ora può essere avviato nuovamente se il giocatore rientra nell'alleanza e quindi ne esce nuovamente. Alla scadenza del timer di un'ora, il gioco controllerà a quale alleanza o confederata appartiene il giocatore. Se il giocatore non fa parte della stessa alleanza o confederata, i rinforzi provenienti da giocatori che non fanno parte della stessa alleanza o confederata verranno rispediti al mittente. Quando un'intera alleanza decide di uscire da una confederata o viene espulsa dalla confederata, questa decisione può influenzare tutte le alleanze coinvolte nella confederata. Si applicano le stesse identiche conseguenze che si applicano in caso dell'uscita di un giocatore da un'alleanza. Questi meccanismi sono progettati per garantire che le risorse e i rinforzi siano gestiti in modo corretto e che non possano essere utilizzati in modo improprio dopo una modifica nelle relazioni tra le alleanze. Ricordate che in Travian Legends, la diplomazia gioca un ruolo fondamentale e la collaborazione tra alleanze può essere la chiave per il successo. Buon gioco e ci vediamo nel prossimo episodio! Ciao!